Come sempre di cosa abbiamo bisogno? Ottimo caffè e acqua calda alla giusta temperatura di circa 92 gradi. Andremo a pesare il caffè necessario per 300 ml di acqua, useremo una dose di 6,5 g per ogni 100 ml, per cui 19 g e mezzo di caffè che andremo a macinare molto grossolanamente. Benissimo, mettiamo nel nostro macinino il caffè, riposizioniamo sulla bilancia il Chemex e mentre macino vado a bagnare il filtro, sempre per togliere quelli che sono i sentori e gli aromi di carta che potrebbero andare nel caffè e allo stesso tempo portare un po' in temperatura il nostro Chemex. Quindi scusate il rumore. E voilà.